Uno staff nuovo e tutto al femminile è la ginecologia dell'ospedale Renzetti di Lanciano, guidata dal primario Antonio Di Francesco, che in occasione della sesta giornata nazionale della salute della donna ha aderito all'iniziativa della Fondazione Onda, con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile. 15 le pazienti che in due giorni si sono sottoposti a visita ginecologica, dalle più giovani alle prese con la prima volta dal ginecologo, alle donne in menopausa. Un appuntamento per sottolineare l'importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce. Ovviamente in un'epoca quale quella attuale, cioè pandemica, anche quest'anno, come negli anni scorsi, in cui avevamo organizzato iniziative anche a livello di, come posso dire, convegni oppure giornate di formazione e così via, siamo stati costretti a ridimensionare un po' il tutto. Però nell'ambito di questa settimana del mese di aprile stiamo fornendo a tutte le donne la possibilità di venire ad essere, come dire, in parte laddove necessario sottoposte a dei controlli, ma soprattutto a fornire la possibilità di venire ad avere informazioni riguardanti tutto quello che è il cammino della donna, dall'adolescenza ai problemi delle donne giovani, ai problemi delegati all'ostetricia, quindi alla gravidanza, e i problemi poi delle problematiche relative alla menopausa e alla ginecologia della terza età, che ovviamente, dato l'incremento, diciamo, l'aspettativa di vita in aumento delle donne, sta assumendo sempre più una valenza importante. Quindi siamo felici che la Fondazione Onda abbia voluto riconoscerci l'attribuzione del bollino rosa che fa parte proprio di questa categoria di attribuzione e quindi forniamo a tutte le pazienti di Lanciano e dintorni che afferiscono, insomma, in qualche modo in questo ospedale questa possibilità. L'iniziativa intende anche facilitare l'accessibilità ai servizi, ancor di più a fronte del protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per coronavirus. Chiaramente quando finirà la settimana non è che noi finiremo a fornire questa cosa, però chiaramente si ritornerà a quelli che sono i canoni normali che, ripeto, oggi devono vedere un attimino di attenzione in più per la risposta ai problemi del Covid.